Sono soddisfatto per la zona piatta? Sono soddisfatto come sempre detto con una particolare attenzione, con la guardia, sono in grado di dire che non siamo 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 in grado di dire. E la settimana successiva invece ha già qualche possibile previsione se saremo ancora in zona di Aica? Io penso di sì, tenendo conto dei numeri che oggi sono la nostra realtà, il virus è totalmente imprevedibile che non mi sento conscienziato in grado di fare previsioni a lungo, direi che nell'immediato i numeri si lasciano a portazione.